io sono veramente sconcertato da quello che vedo da quello che leggo rimango veramente basito ragazzi ma non soltanto perché sono un tifoso della roma perché faccio il paragone lo so che non si dovrebbero fare con altre squadre con altre realtà ed è veramente una vergogna io adesso vi andrò a leggere quest'articolo questi numeri e vorrei da voi un commento cosa ne pensate perché sono rimasto di stucco con gli occhi di fuori già ce l'ho belli pronunciati gli occhi no poi leggendo queste questi articoli sul web mi si accappona la pelle intanto però un benvenuto a tutti dal vostro enrico caffarelli che vi ringrazia per i like per le iscrizioni per chi mi è venuto a seguire anche sul mio secondo canale ti lascio qua sotto il link in descrizione caffarelli solo calcio poi anche chi mi è venuto a salutare su instagram e su tiktok a me fa molto piacere quindi iscriviti a questo canale enrico caffarelli e attiva la campanellina delle notifiche se vuoi altrimenti buona visione e voglio un tuo commento però cosa ne pensi sto parlando della roma della situazione in casa giallorossa che domenica affronterà una delle squadre più forti del campionato se non la più forte insieme al napoli io ci metto ad oggi è ad oggi poi vedremo vedremo se la juventus e il milan riusciranno a cambiare rotta sono queste le squadre più forti parliamoci chiaro e anche la lazio l'incognita lazio quest'anno con baroni la vedo la vedo molto propositiva dicevo io non dico che la la roma debba vincere lo scudetto sarei un ipocrita no sarei una persona che non che dimostra poca intelligenza già per molti lo solo poco intelligente no e dire che la roma insomma possa competere per la vittoria finale direi un'eresia quindi mai sentirete o avete sentito queste frasi da me però con giocatori del genere mi aspettavo un inizio diverso e non mi dite te rossi non mi dite giuri tanto siamo riusciti pure sono riusciti anche a cacciare via morigno figuriamoci no perciò non è questione di allenatore e o quant'altro è vero che la società non sta facendo il massimo dal punto di vista della presenza no infatti domenica ci sarà anche una protesta una contestazione della curva sud che entrerà quindici minuti dopo l'inizio della partita in occasione di roma inter i ragazzi della sud eh non 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 gli sta bene questa situazione vogliono una un cambiamento di rotta dalla società hanno mandato via lino soloku meno male dico io però è già passato un mese e ancora non hanno scelto l'addino l'amministratore delegato non so se in questo preciso istante magari è stato fatto il nome ma non credo perché ho qui davanti il sito web dove vi andrò a leggere l'articolo che a me ha fatto scalpore quindi è un po tutto un marasma un po alla alla campata in aria la campata alla viva al parroco navighiamo a vista come si dice sì è vero molti di voi mi dicono calma enrico alt questi ci hanno messo i soldoni ci hanno messo milioni e milioni di euro è vero è vero però la situazione non è delle migliori spero possa cambiare spero vivamente sono tifoso giallorosso quindi mi darei la zappa sui piedi che ne dicano in tanti e quindi la gestione non è delle migliori la gestione non è delle migliori però io non voglio incolpare soltanto i frittkin non voglio incolpare soltanto l'oro la sologu o de rossi no assolutamente no iuric è il meno colpevole anche se a me non piace ve lo ripeto ancora non come persona come allenatore però magari possa fare tanto di tanto me tanto meglio no di dei suoi predecessori magari viva iuric tutta la vita per carità però per quanto riguarda le caratteristiche di questo allenatore non mi sono mai piaciute spero possa farmi cambiare idea ma io parlo degli ingaggi la roma è tra le squadre con il monte ingaggi molti ingaggi già mi viene da tre mani da parlare di queste cifre monte ingaggi più alto in italia e in europa ragazzi io sto leggendo ecco secondo quanto riportato da calcio e finanza i giallorossi hanno il quarto 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 monte ingaggi lordo di tutta la serie a no 95 virgola 7 milioni davanti ci sono solamente milan 108 eppure il milan eppure i milanisti fanno bene a incavolarsi è perché la loro squadra non è per il milan direi che la colpa è la colpa anche un po di fonseca per questa situazione ci metto anche lui juventus al secondo posto con 117 milioni di euro di ingaggi e l'inter anzi hanno fatto la classifica opposta l'inter è la prima con 141 milioni di euro virgola 7 la juventus è seconda con 117 virgola 6 e il milan 108 virgola 44 che dire l'inter ragazzi l'inter avrà il monte ingaggi più alto però sta lì ha vinto lo scudetto a una finale di champions league è una squadra che farà il mondiale per club supercoppa italiana lo sappiamo l'inter no la juventus è un'incognita però molto probabilmente avrà una una ripresa sicuramente in champions league arriverà questo dico io anzi farà darà filo da torcere a inter e napoli ma il napoli non rientra neanche in questa classifica ragazzi il napoli la squadra prima in classifica non so in quale posizione si si posiziona insomma si si mette in classifica di questa appunto monte ingaggi di questo serie a di questa serie a e degli stipendi no stavo leggendo non c'è non c'è non c'è napoli non lo non lo menziona quindi dico io avete i soldi più di tutti avete bonifici avete tutto quello che un comune operaio come me come come voi che state guardando questo video possa desiderare desiderare per 10 vite 20 vite 30 vite dentro al campo dovete farvi venire la bava alla bocca dovete morsicare le caviglie dell'avversario tra virgolette il pallone lo dovete mangiare mangiare mannaggia la miseria io vi farei mi manderei lavori sforzati vi manderei a zappare la terra altro che il quarto monte ingaggi e poi aspettate la roma risulta essere al diciottesimo posto per monte ingaggi lordo a livello europeo a livello europeo dietro ci sono soltanto fenerbace e crystal palace che sta in premier league quindi vi dovete soltanto che vergognare vi dovete soltanto che mettere ad un angoletto e dire ma quanto siamo quanto siamo pagliacci noi che in campo ci facciamo sfrecciare dai taglialegna svedesi dell'elsborg come si chiamavano quelli la sera poverini vanno a lavorare dopo che hanno giocato a calcio che ci facciamo mangiare in testa dal venezia e per grazia ricevuta riusciamo a vincere 2 a 1 che perdiamo con l'empoli in casa che giochiamo un secondo tempo scandaloso contro l'atletico bilbao un primo tempo buono il secondo tempo ci siamo calati le braghe e meno male che abbiamo preso un punticino col monza qualcuno ha detto che la roma ha giocato benissimo si meritava di vincere se andiamo a guardare ma tu devi effettuare una gara memorabile con questo montengaggi lo so che il binomio montengaggi e vittoria della partita oppure scalata della classifica non è sempre diciamo lineare ma io mi sono rotto le scatole soltanto per la roma non è lineare la lazio se li sta mangiando gli avversari la lazio l'atalanta l'udinese il bologna l'altro anno e se volete vado ancora avanti e noi abbiamo sempre problemi i calciatori della roma sono sempre stanchi sono sbogliati stanno sempre male sempre infortunati pensano alle altre squadre parete a squadres paretes sta pensando al bocca juniors quando i soldi te li dà la roma tu devi dare il fritto per a roma mio caro paretes devi dare tutto non a pensare il bocca juniors mamma mia questo è di peso perché loro i fritti che ne stanno giocando a golf stanno giocando ad altre ad altri sport no e non pensano alla roma stanno pensando a comprare l'everton evidentemente avranno i loro interessi però questa situazione lasciatemelo dire è assolutamente vergognosa la roma non può stare nella classifica che adesso deve quantomeno lottare per un posto champions league non dica arrivarci tranquillamente chiederei troppo no a questi fenomeni che guadagnano fior di soldoni chiederei troppo ma almeno a lottare almeno a provarci va bene altro sfogo ciao a tutti salva fa così ciao a tutti da enrico caffarelli ciao a tutti